Il Rotary Club di Cagliari ha donato un ecografo di ultima generazione al reparto Covid di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità allestito in una tenda all'esterno della struttura, permetterà di garantire alle pazienti un'assistenza ancora più qualificata. L'ecografo è stato consegnato questa mattina nella tenda della protezione civile, ha già partorito una paziente. Le future mamme Covid positive o sospette tali potranno essere assistite offrendo la massima sicurezza sia a loro stesse, sia ai loro bambini e al personale sanitario che le assiste.